Che il cimitero dei Colli di Pescara fosse sovraffollato era già noto, per di più la situazione si è ulteriormente aggravata per i tanti decessi Covid. In attesa del o dei crematori regionali, la cui ubicazione dovrebbe essere individuata a breve e che potrebbe almeno in parte alleviare il problema degli spazi, il cimitero di Colle Madonna procede alla revoca dei loculi assegnati prima del 1975. Chiaramente nel cimitero di Colle Madonna c'è una situazione di grave carenza di loculi che di fatto dall'inizio dell'anno rende molto difficoltoso riuscire a tumulare nuove salme in quel cimitero. Proprio in considerazione di questo, in considerazione del fatto che non può essere prevista nell'immediato un possibile ampliamento del cimitero di Colle Madonna, abbiamo dato avvio alla procedura di revoca delle concessioni antecedenti al 1975 in base a delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria e che consentono appunto in determinate condizioni di revocare le concessioni nel caso in cui negli ultimi cinque anni non c'è stata una nuova tumulazione di salme. Ma i cittadini potenzialmente interessati come verranno informati di questa revoca? I avvisi sia nei vari ingressi del cimitero ma anche sui singoli loculi oggetto di revoca. È stato previsto anche la pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio del comune, ci sono manifesti in tutta la città. Chiaramente per alcune situazioni è veramente difficile riuscire a rintracciare i concessionari che a loro volta magari sono anche loro defunti e tutti gli eredi e quindi attraverso questa capillare diffusione dell'informazione tutti sono messi nella condizione di poter sapere che è in atto questa procedura. Le salme saranno estumulate e poi ridotte in resti e poi a seconda della volontà delle famiglie si potrà procedere o alla cremazione oppure alla sistemazione in un altro loculo in cui è presente già un'altra salma oppure potranno prevedere l'acquisto di un colombaro. Noi abbiamo previsto proprio con una delibera di giunta approvata nella giornata di ieri una riduzione del 50% dei costi per queste operazioni cimiteriali necessarie a seguito di questa revoca.